Ciao, benvenuti in questo sfoglia catalogo Mi. Allora, innanzitutto questo catalogo comprende due campagne, la numero 1 e la numero 2. In questo momento, proprio oggi, 26 gennaio, è iniziata la campagna numero 2. Quindi sfogliamo insieme questo catalogo così vi faccio conoscere questa azienda. Qui, come potete vedere dalla copertina, già vi dà l'idea di che cosa si tratta. Allora, per cominciare, in questa azienda ci sono diversi profumi. I profumi di questa azienda sono ispirati a profumi famosi, quindi a profumi di nicchia. Ora, in questa pagina c'è, a edizione limitata, questo set di profumi che sono stati realizzati in occasione di San Valentino. Infatti, dal bel nome si capisce, dalla confezione si chiamano Love. Quindi, questa, essendo un'edizione limitata, non si trovano oltre questo periodo, ecco. Quindi, qui si può vedere il prezzo unico per ogni profumo è 19,80. Insieme, comprando quindi il profumo da uomo e da donna, costano meno, cioè 32 euro la coppia. Poi, invece, ci sono altri set di profumi. Questi sono i classici profumi che ha l'azienda. Si distinguono dal tappo. Quelli bianchi sono da donna e quelli nel tappo nero sono da uomo, ma comunque anche dal simbolo che c'è nella bottiglietta. E ogni numero che è indicato appartiene proprio alla profumazione ispirata, appunto, a quei profumieri, ai profumi famosi. Il prezzo di questi profumi sono 15,90 euro. Anche in questo caso, se se ne acquistano due di questi profumi, costano meno, 25,80. Il set d'uomo è da donna. Quindi il numero 2, il numero 3. E qui, via dicendo, ci sono gli altri profumi. Questi sono tutti da donna e questi sono i profumi da uomo. No, questi sono sempre da donna, questi sono da uomo, scusate. Questa è tutta la linea da uomo. Andiamo avanti con questo, con la linea, inizial linea di make up. Allora, in questo caso abbiamo un lucida labbra e un balsamo labbra. Eccoli qua. Costano, allora, il balsamo labbra 6,70 euro, il lucida labbra 8,80 euro. Insieme, se vogliamo prendere il set insieme, costano 11,90 euro. Qui invece ci sono i gloss. Queste sono tutte le colorazioni disponibili. Eccoli qua. Questi gloss, lucida labbra, scusate, euro e 70. Qui invece ci abbiamo il buro cacao. Anche questa ha tre colorazioni e profumazioni diverse. Quindi al cioccolato, al berry, qui. Ecco, possiamo vedere quest'altro. Tutti e tre hanno come prezzo 1,90 ciascuno. Qui ci sono invece le matite per le labbra. Queste tre colorazioni disponibili. 3,20 euro. Questi invece sono i rossetti effetto velluto. Ecco qua. Queste sono le colorazioni. Col 35% di sconto costano 5 euro l'uno. Ecco qua. Invece in questa pagina abbiamo la cipria compatta, 8,90 euro. All'interno c'è anche la spugnetta. E qua invece abbiamo il blush con queste tre colorazioni. Qui invece abbiamo questa matita per sopracciglia, 5,50 euro. Da una parte c'è la matita, dall'altra parte c'è lo spazzolino. Ecco qui. Qui invece possiamo vedere il siero per le ciglie e sopracciglia. Questa è una novità che è uscita proprio in questa campagna. Costa 5,90 euro. E poi c'è il fissante sopracciglia, 8,20 euro. Qui andiamo con gli ombretti liquidi. Questi sono i colori. Questi sono i prezzi. Poi questi altri ombretti liquidi. Qui abbiamo la matita per gli occhi. 3,20 euro. Mascara. Effetto volume. Eyeliner. Vado un po' velocemente perché non voglio fare il video troppo lungo. Mi soffermo solo in alcune cose un po' più particolari. Ecco, questa è una linea per la pelle. Quindi è la crema contorno occhi idratante. Crema idratante intensiva. Crema da notte. Questi sono i prezzi. Come potete vedere. Questa è una linea indicata, quindi è anti-edge. Tipo, dovrebbe essere questa indicata dai 50 anni in su. C'è la crema da giorno, crema da notte, crema contorno occhi. Lo spray viso o levicante. Poi, qui abbiamo invece la linea retinolo. C'è il siero, crema contorno occhi. Crema da giorno, la maschera da notte. Emulsione dell'ergente. E qui prosegue invece con la linea sempre anti-edge. Con i 3PT. La linea con l'acido liauronico. Eccole qua. Crema, siero. Date un'occhiata ai prezzi. Se poi volete avere informazioni, chiedete tranquillamente. Qui c'è invece questa crema liquida idratante colorata per il viso. Qui c'è il tonico calmante, mousse, scrabbe per il viso cremoso. Qui ci sono la detergente, acqua micellare. La linea più specifica per chi ha problemi di acne. C'è tutta una linea completa. Qua invece siamo a un'altra linea particolare perché questa qua è il gel per il viso, delicato. Crema per la pelle secca e per la pelle grassa e mista. Anche queste, come potete vedere, hanno dei piccoli prezzi. 3,70. E questa invece è tutta una linea uomo, scontata. Questa è una novità, questo balsamo per le labbra uomo, 1,90. Questa è la linea invece al retinolo. E allora, cosa comprende? Questo siero corpo rassodante e le doccia schiuma. Questi qui, doccia schiuma, questo è ottimo, io lo sto provando. Il retinolo è molto buono. E poi abbiamo questo qui, che è lo scrabbe per il corpo naturale e burro per il corpo naturale. Eccoli qua. Poi c'è questa linea vegana, tutta vegana. Questa qui doccia schiuma, scrabbe per il corpo naturale e burro. Poi abbiamo questa linea particolare perché ha la canapa. E allora, comprende quest'olio secco per il corpo, la crema per le mani, il gel doccia, doccia per il corpo. Qui invece abbiamo la linea, aspetta un secondo, ho saltato una pagina infatti, eccola qua. Questa è un'altra linea sempre per il corpo, latte corpo espoliente, crema per i piedi, multifunzione. Questa è una crema adatta per tanti, infatti si chiama multiuso, multifunzione, adozione sempre per il corpo. Qui invece abbiamo i saponi liquidi, la lavanda, il timo, detergente intimo, questi sono tutti naturali. Doccia schiuma, eccola qua. Poi qui abbiamo balsamo per le mani, scrub, olio per le unghie, goticole, mandorla, all'ananas. E poi c'è questa novità, in questa campagna, questa crema alla lavanda con la paraffina e i frutti tropicali. Qui abbiamo invece gli spray antibatterico per le mani, eccoli qua, ce ne sono tre. Poi qui ci sono dei set che ordinandoli insieme costano meno, sono delle creme per le mani, all'anguria e il sapone per le mani. Quindi si possono prendere sia singolarmente che insieme. Qui ci sono il bagno doccia, il bagno scuma. Mi vado velocemente. Questa è la linea per i capelli. Questa è anche la linea per i capelli all'acido neuronico. La linea anticaduta. Per tutte, diciamo, le esigenze. Questo è multiuso, insomma, per qualsiasi tipo di capelli. C'è la maschera, shampoo, balsamo. Questa è la linea baby per i piccolini. Crema per il bambino, neonato, olio per bambini. Qui bambini da tre anni in su. Sia per maschietti che per femminucce. Poi qui abbiamo invece gli integratori. Gli integratori in base appunto all'esigenza tipo antistress, complesso per migliorare il sonno. E tanti, tanti altri integratori per varie esigenze. Qui continuano ancora gli integratori. Sono diversi. Questa è la linea casa. E la linea casa sono tutti i prodotti detersivi vegani. Ci sono gli spruzzini che si ordinano separatamente. Costano 20 centesimo l'uno. E ci sono dell'argento universale. Per i vetri. Questo è l'argento per i vetri. Poi qui ci sono tanti altri sgrassatori. Insomma, tanto. C'è veramente tanto da scegliere. Poi c'è la linea per il bucato. Ammorbidenti, diversivi, smacchiatori sempre appunto per il bucato. Sia per i capi delicati per i bambini che per tutti i capi in generale. Questi sono gli ammorbidenti. Benissimo. Adesso vi parlo velocemente della promozione che c'è per chi si iscrive in questa campagna. Quindi se desiderate iscrivervi in questa campagna, la promozione che è in corso è questa. Cioè, se effettuiamo un ordine a partire da 40 euro, prezzo da catalogo, avremo subito uno sconto del 30%. Quindi, se volete anche voi approfittare di questa promozione e volete quindi conoscere questi prodotti, io lascio come sempre in info box sia il link per poter registrare autonomamente o anche i miei dati, così se volete contattarmi io sarò lieta di darvi ulteriori spiegazioni. Grazie per aver visto questo video, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!